La nomina di Federico Caffiero de Rao è una notizia molto bella per la città, la sua disponibilità a impegnarsi per il mercadante rappresenta sicuramente un'opportunità, un teatro stabile, una delle grandi risorse della città, chiaramente il comune vuole investire per creare non solo condizioni di sviluppo culturale ma anche ampliamento dell'offerta e dell'opportunità per le produzioni napoletane. Quindi è veramente una bella notizia, sono molto lieto che abbia accettato e che abbia dato questa sua disponibilità proprio al favore della cittadinanza.